Se solo potessi immaginare il peggior incubo di un bambino, allora potresti immaginare cos'è la vita per la piccola Brenda. Una bambina costretta a vivere sola, per strada. Una bambina terrorizzata. Terrorizzata dal mostro che ogni giorno viene a cercarla e la trova sempre, dovesse nascondersi anche in capo al mondo. La picchia, la afferra con violenza e la costringe a fare cose orribili per la sua età. Brenda è soltanto una delle migliaia di bambini terrorizzati che ogni giorno subiscono violenze e abusi terribili. Tu puoi aiutarli, subito. Con il tuo sostegno ci aiuterai a trovare i bambini che vivono in strada e a dar loro un posto sicuro dove possano trovare protezione, cibo nutriente per crescere, speranza. Tu puoi fermare questo incubo, ora. Dona 9 euro al mese su bambinidimenticati.org perché senza di te bambini come Brenda continueranno a subire abusi e violenze anche domani.